Transizione ecologica e benessere, il tema della prima conferenza regionale ambientale organizzata dall'Agenzia Regionale Territorio Ambiente, ARTA. Sono giorni di grande impegno per rappresentare agli abruzzesi il lavoro qualitativo di ARTA Abruzzo nel campo dell'acqua, dell'aria e del suolo, ma non solo, anche una strategia multidisciplinare che è la strategia del benessere che vede ARTA Abruzzo per volontà del legislatore regionale soggetto attuatore. Sarà un modo per rappresentare il grande lavoro a tutela dell'ambiente e a tutela della salute della collettività abruzzese. Presenti alle due giornate, i responsabili delle maggiori agenzie regionali di tutta Italia, tra queste l'ARPAE Emilia Romagna. È un mestiere complesso il nostro, fatemi passare questa definizione, per cui il confronto è una necessità, è uno strumento di lavoro di tutti i giorni. In questo caso è anche interessante seguire il percorso che ARTA sta facendo e questo connubio con il benessere credo che sia un'importante chiave di lettura del nuovo ruolo delle agenzie ambientali. La rete di agenzie, ognuna con la sua competenza, è il vero valore aggiunto nella transizione ecologica. Questa è la sfida, trasmettere il valore della nostra regione fuori i nostri confini. Fino ad oggi ce la raccontiamo tra di noi, la sfida dell'internazionalizzazione su cui stiamo lavorando pesantemente come giunta regionale ha proprio questo obiettivo. Nel corso della giornata è stato presentato anche il nuovo mezzo mobile per la tutela ambientale di ARTA Abruzzo. Fino ad oggi Fino ad oggi Fino ad oggi